Ciao ragazzi, facciamo un paio di esercizi per le gambe. Allora, il primo sollevo una gamba, in questo modo, mi metto anche di profilo, e molleggio sull'altra, semplicemente, ok? Quindi piego l'altra. Invece il secondo, molto simile, piego sempre una gamba, ma questa volta la metto dietro, così, e molleggio. Piego sempre l'altra gamba, ok? Musica. Pronti? 3, 4, 5, 6, 7, cambio gamba, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piego indietro, 1, 2 Grazie a tutti